Grazie. Buongiorno a tutte e a tutti. Salute e ringrazio il Presidente della Repubblica Sergio Mattarella, la Ministra Finocchiaro e il Questore del Senato Lucio Malanna. Il Presidente Antonello Soro, insieme agli altri componenti dell'autorità Garante, saluto tutte le autorità, sono tante, presenti e tutti voi che siete qui oggi nella nostra sala della Regina. Ecco, mi fa particolarmente piacere, Presidente Soro, che la Camera sia ancora una volta, anche quest'anno, la sede in cui viene presentato il resoconto del vostro lavoro. Per di più, stavolta coincide con un anniversario importante, perché è la celebrazione del ventennale dell'entrata in vigore della prima legge sulla privacy. La prima legge sulla privacy. Ecco, sono passati vent'anni, ma veramente sembra molto di più, davvero il secolo scorso. Però noi col tempo abbiamo dovuto prendere atto, abbiamo dovuto capire sempre meglio che sul fronte della tutela dei dati personali si gioca una partita importantissima. Magari all'epoca non avevamo contezza di tutto quello che avrebbe rappresentato, oggi sappiamo che si gioca la partita del nostro essere cittadini. Quindi da come noi trattiamo i dati personali, noi appunto avremo un ruolo o un altro in merito al nostro essere cittadini e anche in merito alla qualità della nostra democrazia. Google, Apple, Facebook e Microsoft insieme hanno una capitalizzazione di borsa equivalente al PIL della Francia. Ora, chi può contrastarli? Oramai sono più potenti dei governi. Ecco, queste non sono mie parole. Io cito le parole di un manager come Franco Bernabè nell'intervista che ha fatto sabato scorso al Sole 24 Ore. Ecco, perché cito queste parole? Le cito per dire che a questo strapotere non ci si può rassegnare e nessuno Stato democratico può rassegnarsi a questo strapotere. Qui alla Camera e in questa legislatura noi abbiamo cercato di fare la nostra parte su questo ambito. Ecco, e per questo noi abbiamo spesso collaborato anche con il Garante perché ci siamo trovati sulla stessa strada. Allora, la dimensione digitale è sicuramente straordinaria. La dimensione digitale ci apre un potenziale incredibile, ma nessuno però ci può imporre di subirne senza fiatare anche i lati oscuri di questa dimensione, che è bella, che è importante, ma ha dei lati oscuri. Allora, penso che si possa affermare che in democrazia non possono esistere poteri che non siano chiamati a rispondere a istituzioni nazionali o sovranazionali. Ed è anche per queste considerazioni che in questa legislatura ho voluto istituire due commissioni. Una sui diritti e i doveri di internet, perché tra le nostre commissioni manca tutt'oggi una commissione sugli affari digitali e l'altra una commissione per contrastare il razzismo, l'odio, l'intolleranza nel discorso pubblico. E noi sappiamo che sulla rete tutto questo si diffonde con una grande facilità. E allora, in questi ambiti la parola chiave è responsabilità. Quindi una responsabilità che è over the top deriva non solo da un grande potere, ma anche da fatturati stratosferici. Quindi, che vuol dire che il tempo della responsabilità dovrebbe indurre gli over the top a considerare se stessi non come delle semplici autostrade su cui passano immagini, tweet e post, ma appunto come qualcosa di diverso. Non possono dire, noi non sappiamo che cosa circoli sulle nostre autostrade. Non sappiamo nulla dei contenuti. Così, così come credo che non sia irrilevante che si assumano responsabilità fiscali. Responsabilità fiscali lasciando dunque risorse anche nei paesi in cui fanno lauti profitti. E quindi è importante che questi soggetti assumano la responsabilità editoriale, anche per non fare concorrenza sleale verso i soggetti editoriali. Ora, la settimana scorsa la commissaria europea, la Vera Jourova, ha presentato per la seconda volta i risultati di questo invito che è stato fatto appunto ai social media più importanti, Facebook, Twitter, YouTube e Microsoft, cioè di implementare un codice di condotta in base al quale entro 24 ore dalla segnalazione vengono cancellati i messaggi di odio. Ora, la prima volta la percentuale di messaggi di odio cancellati dall'Italia era il 4%, il 4% di tutti quelli segnalati. Ora vanno un po' meglio le percentuali di questo secondo controllo, ma chiaramente ancora c'è strada da fare perché vanno meglio perché adesso vengono controllati solo i messaggi di odio segnalati dall'UNAR. Ma quando i cittadini segnalano indipendentemente i loro messaggi non vengono considerati. Ecco, e allora c'è da chiedersi chi deve avere l'ultima parola su che cosa può essere corretto e che cosa non è corretto e anche su se e quando concedere a un cittadino la facoltà di esercitare un proprio diritto. Può essere la piattaforma digitale avere questa prerogativa? Questo appunto oggi. Quindi, per esempio, c'è chi ha denunciato la presenza di centinaia di pagine di Facebook inneggianti al fascismo e al nazifascismo. Allora, la risposta che è stata data a chi ha segnalato questa presenza, e ci sono pagine chiaramente apologetiche, è stata la nostra community a regole diverse da quelle italiane. Ecco, a me questa risposta non sembra compatibile con la gerarchia che deve esistere tra le leggi di uno Stato e le regole interne di un'azienda. Ora, Facebook ha in Italia 30 milioni di utenti, la metà della popolazione. Quindi parliamo di numeri stratosferici. Il fondatore Mark Zuckerberg ha annunciato che ha aumentato il numero di persone, il suo team di sorveglianza, da 4.500 con altre 3.000 unità. Ora, a me questo fa piacere, 2 miliardi di utenti. Quindi, pensate alla proporzione, vorrei sapere quanti di questi saranno destinati al nostro Paese. Ecco, perché questo è un dato assolutamente rilevante. E allora, a me sembra una richiesta molto modesta, paragonata a quello che sta succedendo in Germania. Voi sapete che il Bundestag sta esaminando un progetto di legge governativo che mira a introdurre una serie di obblighi molto precisi per le piattaforme e anche pesantissime sanzioni. Quindi, nel nostro Paese noi non stiamo in questa fase, chiediamo però che almeno venga destinato un personale adeguato alla cancellazione dei messaggi di odio. Ecco, credo che una regolamentazione vada fatta su questo argomento, vada elaborata, ma sicuramente vada fatta a livello europeo, perché è chiaro che noi non possiamo dimenticarci la natura sovranazionale della sfera digitale. E dunque, anche in questo ambito, noi abbiamo bisogno di più Europa, di più Europa per evitare di sembrare velleitari con soluzioni che sono applicabili solo a livello nazionale. Ora, c'è anche un'altra minaccia, quella del terrorismo islamista, che fa della rete il veicolo principale. Quindi, in tema di cyber security, io penso che noi dovremmo veramente essere sempre più assertivi nell'affermare una stretta collaborazione tra istituzioni e piattaforme digitale, anche a livello comunitario. Ecco, allora, se è il tempo delle responsabilità per le grandi over the top, è anche il tempo della responsabilità per gli utenti, specialmente i giovani e i giovanissimi utenti. Per questo, la commissione internet che abbiamo istituito qui alla Camera, dopo aver elaborato una carta dei diritti e dei doveri, che poi è diventata una mozione approvata all'unanimità, è uscita dal palazzo. La commissione sta andando in giro per le scuole, e quindi vedete l'innovazione di questi deputati ed esperti che insieme vanno nelle scuole per promuovere una cultura di responsabilità nell'utilizzo del digitale e anche per stimolare una cultura della verifica, perché l'alfabetizzazione digitale è parte integrante della crescita, della coscienza dei nostri giovani. Per questo, con la Ministra Fedeli, abbiamo deciso di lanciare un progetto di educazione civica digitale dal prossimo inizio di anno scolastico. E su questo ci sono molti soggetti coinvolti, oltre le famiglie, le scuole, anche associazioni e corpi intermedi. Quindi parliamo di giovani e in chiusura vorrei ricordare una ragazza della quale vi parlai quattro anni fa, quando presentammo la prima relazione qui alla Camera, questa ragazza si chiama Carolina Picchio, quattro anni fa, all'inizio della legislatura, decise di togliersi la vita, questa ragazzina di 14 anni, gettandosi dalla finestra, perché non riusciva più a sostenere la gogna che si era aperta nei suoi confronti. Ecco, noi ascoltammo i genitori di Carolina in un convegno qui alla Camera, in questa stessa sala, e ci impegniamo a fare una legge. Quella legge l'abbiamo fatta, abbiamo fatto una legge sul cyberbullismo, una legge che è stata anche frutto di una lunga discussione e di passaggi tra Camera e Senato, una legge che appunto prevede anche un coinvolgimento dell'autorità del Presidente Soro, quindi sapremo poi da lui come poi l'autorità riuscirà anche a far fronte a questo ennesimo impegno. Quindi quella legge, io credo che debba essere, che abbiamo peraltro dedicato a Carolina, ai genitori che tanto si sono impegnati, ecco, va dedicata a tutti quei ragazzi e quelle ragazze che hanno imparato a loro spese, a loro spese che sulla rete ci si può fare veramente molto male. Io spero che questi ragazzi e queste ragazze oggi con appunto sapendo che c'è una legge possano sentirsi meno soli, meno soli, meno trascurati dagli adulti e dal legislatore. Vi ringrazio. Buongiorno, desidero innanzitutto esprimere un particolarissimo ringraziamento al Presidente della Repubblica che oggi ci onora della sua presenza per l'attenzione con cui costantemente guarda alla nostra attività. Ringrazio la Presidente della Camera per le sue parole e per l'ospitalità, i rappresentanti del Governo, del Parlamento, delle diverse autorità, tutti presenti. Signor Presidente della Repubblica, Signora Presidente della Camera, Signore e Signori, l'8 maggio 1997 entrava in vigore nel nostro Paese la legge sulla tutela dei dati personali. Nel corso di questi vent'anni quello che a qualcuno allora poteva apparire un istituto giuridico lontano dalla vita reale ha invece influenzato sempre di più scelte individuali e pubbliche dimostrandosi un concretissimo presidio di libertà rispetto a forme di controllo tanto sottili quanto pervasive. Da molti percepito in origine riduttivamente come mera rivendicazione della inviolabilità della sfera privata, tale diritto ha dimostrato nel corso del tempo le sue molteplici potenzialità, la capacità di difenderci da sempre nuove discriminazioni, di garantire la libera costruzione della personalità, la sovranità su di sé, sulla propria immagine, sul proprio corpo. E questo anche per l'impegno profuso dai componenti il garante che ci hanno preceduto a quali va la nostra gratitudine. Tutt'altro che presupposto di opacità e difesa di privilegi, il diritto alla protezione dei dati si è dimostrato un prezioso fattore di garanzia capace di correggere quelle asimetrie informative che caratterizzano sempre di più i rapporti tra i cittadini e i detentori del potere pubblico e privato. E viene sempre di più invocato di fronte a soverchianti schiavitù volontarie cui rischiamo di rassegnarci in cambio di utilità e servizi digitali che paghiamo al prezzo di porzioni della nostra libertà. In un'epoca che di fronte alla tecnica sembra smarrire ogni senso del limite proprio questo diritto rappresenta la bussola per riportare la persona al centro di uno sviluppo tecnologico altrimenti distoppico e dispottico per misurarne l'innovazione anche secondo i criteri della sostenibilità sociale, dell'ammissibilità etica prima ancora che giuridica. Nella sua prima relazione al Parlamento Stefano Rodotà si chiedeva se tutto quello che è tecnicamente possibile sia pure eticamente lecito, politicamente e socialmente accettabile, giuridicamente ammissibile. Sono trascorsi vent'anni e la stessa sfida per noi si rinnova ogni giorno. Da allora certo molto è cambiato. Internet è divenuto il più grande e frequentato spazio pubblico che l'umanità abbia mai conosciuto la nuova dimensione in cui si svolge una parte rilevante della nostra vita. Il processo di trasformazione digitale investe la maggior parte delle relazioni tra le persone e tra queste le pubbliche e le pubbliche amministrazioni e le imprese. L'interconnessione di oggetti, sensori, dispositivi di uso quotidiano alimenta il trattamento di grandi volumi di dati e favorisce applicazioni sempre più stupefacenti dell'intelligenza artificiale che cambiano in profondità i processi economici e l'organizzazione sociale. Una nuova categoria di tecnologie che utilizza l'elaborazione del linguaggio naturale e dell'autoapprendimento potrà consentire a persone e macchine di interagire in modo più naturale accrescendone competenze e capacità cognitive. La relazione tra mercato e diritti si gioca su questo terreno e nell'epoca della disintermediazione e delle post-verità nuove sfide complicano ulteriormente la tenuta e il senso della democrazia. Dopo l'11 settembre il rapporto tra libertà e sicurezza si modula su equilibri ben diversi da quelli di vent'anni fa e in questi anni ci si è addirittura chiesti anche in queste ore se la prima possa sopravvivere al terrorismo. Ma la privacy è nome della libertà e le esperienze ci dicono che di fronte alle nuove minacce essa sia non soltanto possibile ma addirittura indispensabile per rendere le attività di contrasto più risolutive perché meno massive e quindi orientate su più congrui bersagli per far sì che nella lotta al terrorismo siamo più efficaci non meno liberi. Il contesto in cui oggi ci muoviamo e in cui opera il garante quale unica autorità preordinata non già alla regolazione di uno specifico settore ma alla tutela di un diritto fondamentale in qualsiasi ambito della vita è dunque assai diverso da quello in cui si inseriva il garante al momento della sua istituzione. Ma nel differente contesto quella della protezione dei dati è ora, come è più di allora, la frontiera su cui si gioca una parte rilevante del nostro futuro. Lo è più di allora perché oggi assai più di vent'anni fa non vi è attività privata o pubblica che non si fondi su tecnologie alimentate da dati personali. Le telecamere che vent'anni fa iniziavano a diffondersi nelle nostre città sono oggi non solo molto più numerose ma anche più intelligenti, riconoscono le persone, classificano i comportamenti e reagiscono di conseguenza. I processi di automazione del lavoro ne stanno determinando quasi una deumanizzazione. La progressiva sostituzione dei lavoratori anche di quelli addetti alle funzioni più complesse con le macchine è destinata ad avere conseguenze sociali rilevantissime. A breve annunciano i ricercatori nuove tecnologie consentiranno al cervello di scrivere e all'appello di ascoltare attraverso dispositivi indossabili. L'intelligenza artificiale dunque viene spinta sino al punto di mutare la stessa funzione dei nostri organi. E la combinazione tra informatica e genetica ha consentito alla tecnologia di insinuarsi fin nelle pieghe più profonde delle nostre esistenze riscrivendone codici sovrapponendo biologia e biografia. La progressiva mappatura dell'intero patrimonio genetico ha reso evidenti le potenzialità straordinarie della medicina predittiva e di precisione il cui sviluppo non può prescindere tuttavia da una dubbata tutela delle informazioni personali sulle quali si basa. Neppure il nostro processo è oggi immune dalla tentazione della delega fideistica della giurisdizione alla scienza che per quanto esatta non conosce i parametri della responsabilità della colpa e dell'equità. La delega all'algoritmo persino della prognosi di recidiva penale oggetto di recente controversia in alcuni Stati americani è in questo senso significativa. In un contesto di così incessante cambiamento garantire il diritto alla protezione dei dati personali vuol dire coniugare tecnologia e umanità libertà e sicurezza trasparenza del pubblico e riservatezza del privato informazione e dignità iniziativa economica e autonomia individuale scienza e libertà dal determinismo e se oggi più di vent'anni fa la protezione dei dati è condizione necessaria per la libertà e la democrazia e anche soprattutto perché la nostra più effettiva dimensione di vita è paradossalmente quella digitale densa di straordinarie opportunità ma anche di insidie perché i dati costituiscono la proiezione digitale delle nostre persone e insieme ne manifestano la vulnerabilità internet è divenuto la nuova dimensione entro cui si svolge la personalità di ciascuno e la realtà in cui i diritti si esercitano o possono essere negati le libertà si dispiegano o sono violati l'assenza di limiti propria della rete ha offerto infinite potenzialità di crescita e conoscenza alle quali meno frequentemente si è accompagnato un corrispondente esercizio di consapevolezza e responsabilità se sul web la libertà si esprime in ogni sua potenzialità anche la violenza specularmente non conosce limiti dalla violenza verbale da parte di chi in rete supera ogni freno inibitorio erroneamente confidando nell'anonimato fino alle aberrazioni di Blue Whale e alle esibizioni online di atti omicidi in un crescendo di lucidissima follia peraltro verso il passaggio all'internet delle cose ha digitalizzato ogni aspetto della vita quotidiana moltiplicando esponenzialmente il volume dei dati trattati non sempre con adeguate garanzie come dimostrano i tanti attacchi dei quali sono vittime imprese e amministrazioni anche italiane la combinazione tra la tendenza sempre più diffusa alla condivisione e la centralità dei big data per il sistema economico costituisce il fondamento dell'economia digitale basata sullo sfruttamento commerciale delle informazioni personali e sulla costruzione di modelli identitari omologati e omologanti per condizionare scelte individuali e collettive l'identità personale rischia così di ridursi ad un profilo del consumatore elettore utente che un algoritmo attribuisce a ciascuno finendo per annullare l'unicità della persona il suo valore la sua eccezionalità l'identità personale diventa una cifra per big data la tutela della persona rispetto a queste forme di monitoraggio più o meno occulto del proprio comportamento in rete è dunque indefettibile garanzia di libertà del resto se ciò che per ciascuno è dato personale intima essenza di sé diviene per i grandi monopolisti del web dato economico da sfruttare commercialmente le implicazioni in termini antropologici ma anche sociali e politici sono eloquenti è significativo che la legislazione europea in materia ruoti attorno alla figura del data subject l'interessato è definito a partire dai suoi dati né è fonte e allo stesso tempo né ha la signoria il cui esercizio rappresenta la vera e unica garanzia rispetto ai tanti grandi fratelli che governano la rete la concentrazione in capo a pochi soggetti privati di un rilevantissimo potere non solo economico ha infatti determinato un mutamento sostanziale nei rapporti tra individuo e stato tra pubblico e privato cambiando profondamente la geografia del potere gli over the top sempre più spesso intervengono in un regime prossimo all'auto di chia per comporre istanze di rilevanza primaria e parallelamente l'intervento statale è reso più complesso dalla capacità delle nuove tecnologie di scardinare i presupposti essenziali in primo luogo la territorialità quale criterio di competenza e applicazione della legge la misura delle nostre libertà è dunque fortemente condizionata dall'operato delle grandi imprese dell'economia digitale e in questo scenario interviene nuovo quadro giuridico europeo in materia di protezione dei dati da poco più di un anno pubblicata in gazzetta ufficiale e tra poco meno di un anno applicabile negli stati a questi si aggiungerà fra breve nuovo specifico regolamento sulle comunicazioni elettroniche nato dall'esigenza di evitare quel rischio di anacronismo che corre sempre il diritto nel suo rapporto con la tecnologia il regolamento conia una disciplina uniforme e direttamente applicabile nel territorio dell'Unione ed estende inoltre il proprio ambito di applicazione anche ai soggetti stabiliti al di fuori dell'Unione superando così disparità di trattamento inaccettabili anche sotto il profilo concorrenziale rispetto a operatori europei che offrono i medesimi servizi proprio l'esigenza di assicurare ai cittadini europei una tutela adeguata anche rispetto a chi ne trattasse i dati oltreoceano aveva indotto la Corte di Giustizia ad annullare il Sefarbur da poco sostituito da un nuovo accordo sul trasferimento dei dati il Privacy Shield peraltro già messo in tensione dalle prime scelte della nuova amministrazione ma quel rigore doverosamente utilizzato dalle autorità di protezione dei dati europei per valutare il sistema di garanzie statunitensi deve imporci di utilizzare gli stessi parametri in tutti gli altri contesti a partire dalle valutazioni dei trasferimenti dei dati verso la Cina dovremo batterci per promuovere uno scudo privacy anche con la Cina soprattutto in ragione dell'evoluzione che ha caratterizzato il modello europeo con il regolamento emancipato dalla dimensione riduttiva del mercato interno in favore del più ampio approccio di tutela di un diritto fondamentale sancito come tale dai trattati e dalla carta di Nizza e concepile la protezione dei dati quale punto di incidenza di molteplici diritti e libertà non può che avere implicazioni importanti in primo luogo la scelta di un modello giuridico di tutela fondato sul ruolo di garanzia di autorità indipendenti sempre più partecipi di una rete istituzionale di matrice europea e dall'approccio orientato ai diritti deriva anche il passaggio da una tutela in chiave prevalentemente remediale dunque successiva a una di tipo essenzialmente preventivo fondata come tale sulla complessiva responsabilizzazione dei titolari di trattamento nella prevenzione del rischio sociale derivante da banche di dati poco protette l'implementazione del regolamento necessiterà prima di tutto di un mutamento culturale da parte di amministrazioni e imprese cittadine e Stato affinché la protezione dei dati sia considerata non già un costo ma la risorsa essenziale in una società sempre più digitale interconnessa ciascuno di noi è conosciuto quasi esclusivamente attraverso i dati che lo riguardano detenuti in banche dati nelle quali l'identità è frammentata di qui l'importanza di garantire l'esattezza e l'aggiornamento la pertinenza dei dati trattati in modo da scongiurare il rischio di classificazioni errate e distorsioni in tratti importanti dell'identità individuale sfuggendo alla tentazione di delegare tutto alla tecnologia in ogni caso è necessaria un'adeguata trasparenza sul funzionamento dei meccanismi di decisione automatizzata sui limiti intrinseci che presentano tali decisioni è basato il provvedimento con cui abbiamo dichiarato illegittima l'ipotizzata costituzione di una banca adatti per la misurazione del rating reputazionale una questione complessa come la reputazione sotto il profilo professionale ed economico sarebbe stata ridotta a mero calcolo svolto da un software in base a dati reperiti in rete e al di là del fatto che affidare a un algoritmo la recensione di una persona al pari di un prodotto commerciale aprirebbe una deriva davvero pericolosa tale sistema avrebbe presentato un rischio elevato di attribuire agli interessati profili deformati della loro reale identità con danni irreparabili per la dignità la vita sociale e lavorativa degli stessi in questi anni la sottrazione di dati personali nel web a scopo di frode ha registrato una crescita smisurata spesso per realizzare attraverso il furto di identità ulteriori crimini è il caso di un'importante operazione di riciclaggio nel settore del money transfer rispetto alla quale abbiamo erogato una sanzione di 11 milioni di euro e anche quest'anno l'autorità ha profuso un grande impegno in relazione al governo delle banche dati pubbliche e private vista l'importanza che assumono la sicurezza e la qualità dei dati per evitare inefficienze e procedure viziate significativo il provvedimento con cui al termine di una complessa attività aspettiva si sono accertate gravi criticità da parte di un grande operatore telefonico nell'integrità e qualità delle proprie banche dati perfino quella sul traffico telefonico a disposizione dell'autorità giudiziaria che hanno determinato l'assegnazione in debita di utenze a un numero consistente di clienti ignari nell'ordine di migliaia deve essere inoltre segnalata la condotta omissiva della società durante un assai ampio arco temporale anche successivo la segnalazione con riserva dei successivi provvedimenti sanzionatori abbiamo prescritto una ricognizione generale dei sistemi insieme a verifiche puntuali e misure organizzative volte a consentire controlli preventivi e correzioni tempestive delle anomalie riscontrate in un caso recente relativo a un altro operatore un attacco informatico effettuato sfruttando le vulnerabilità dei sistemi ha consentito l'accesso con successiva coppia delle credenziali di autenticazione di oltre 5.000 clienti utilizzate per accedere all'area riservata delle proprie utenze per quanto poi concerne le grandi banche dati pubbliche all'esito di verifiche ispettive e di accertate vulnerabilità abbiamo prescritto all'agenzia delle entrate un incremento dei livelli di sicurezza rispetto all'anagrafe tributaria ci siamo anche adoperati per garantire rispetto alla dichiarazione dei redditi precompilata maggiore sicurezza nell'accesso degli intermediari e nella trasmissione dei dati delle informazioni all'agenzia assicurando la non eccedenza dei dati raccolti e definendo i tempi di conservazione è per altro verso in corso la verifica sull'attuazione dello speedy per valutare l'idoneità delle procedure di attribuzione dell'identità digitale e dei livelli di sicurezza per l'accesso ai servizi offerti online un'attenzione particolare è stata rivolta anche alle banche dati nel settore della sanità il cui valore anche economico enorme come tra l'altro dimostrano gli investimenti stimati per la creazione a Milano di un centro di ricerca europeo rispetto al quale l'autorità vigilerà per contemperare libertà della ricerca scientifica e tutela dei diritti dei pazienti sempre nel settore della sanità abbiamo profuso uno straordinario impegno partecipando attivamente al tavolo di lavoro sul fascicolo sanitario elettronico fornendo tutte le indicazioni necessarie a consentire la piena attuazione di questa importante innovazione a beneficio dei cittadini nelle scorse settimane l'attacco informatico attraverso WONACRAI ha ingenerato allarme in tutto il mondo non sarà purtroppo l'ultimo perché nella dimensione digitale si svolgono sempre di più le relazioni ostili tra gli stati e all'interno degli stati secondo stime recenti nello scorso anno le infrastrutture critiche sarebbero stati oggetto del 15% di attacchi in più rispetto al precedente e sarebbero cresciute del 117% quelli riconducibili ad attività di guerra cibernetica nel 2016 gli attacchi informatici avrebbero causato alle imprese italiane danni per 9 miliardi di euro ma meno del 20% delle aziende farebbe investimenti adeguati per la protezione del proprio patrimonio informativo il settore pubblico non risulta essere molto più efficiente per questo la sicurezza dei dati deve rappresentare un fattore abilitante per i soggetti privati e pubblici da perseguire fin dalla progettazione dei sistemi e delle infrastrutture la resilienza informatica nel contrasto alle minacce cibernetiche deve dunque rappresentare ciò che la resilienza della democrazia rappresenta nel contrasto del terrorismo ciò vale tanto per i big data di cui si alimenta la pubblica amministrazione quanto per l'intelligence e in generale l'attività di indagine di tipo strategico che rischia di allontanarsi da quel principio di proporzionalità tra privacy ed esigenze di investigative ribadito più volte dalla Corte di Giustizia e di recente declinato così da tradurre uno strumento investigativo ontologicamente massivo quale la data retention in uno selettivo da applicare a obiettivi mirati e in base a presupposti stringenti la proporzionalità dei dati trattati rispetto alle esigenze investigative è del resto un criterio che ha contraddistinto le indicazioni fornite dal garante in particolare attraverso pareri sui decreti attuativi della disciplina dei trattamenti per fine di polizia rispetto alla cronaca giudiziaria si è registrata anche quest'anno la diffusione di atti di indagine in violazione del relativo regime di pubblicità e spesso anche del principio di essenzialità dell'informazione mai come in quest'ambito occorre un impegno comune giustizia e informazione si caratterizzano principalmente infatti per la loro indipendenza e quindi per la responsabilità nell'esercizio delle rispettive funzioni responsabilità tanto più necessaria rispetto al potenziale distorsivo del processo mediatico in cui logica dell'audience e populismo penale rischiano di rendere la presunzione di colpevolezza il vero criterio di giudizio tale esercizio di responsabilità sarà certo favorito dalla proficua circolarità instaurata tra giurisdizione organo di governo autonomo della magistratura e garante al fine di coniugare esigenze di giustizia e privacy in particolare riguardo al tema delle intercettazioni su cui diverse procure CSM hanno adottato provvedimenti volti a limitare nel rispetto del contraddittorio e del diritto di difesa la trascrizione di contenuti inerenti aspetti irrilevanti ai fini delle indagini o terzi estranei molte delle indicazioni contenute in tali provvedimenti e conformi alle raccomandazioni da noi espresse più volte anche in questa sede sono state trasfuse in criteri di deloga nella riforma penale all'esame del Parlamento e va certamente regolamentato l'utilizzo dei trojan a fini intercettativi definendo con rigore il perimetro delle garanzie in ragione della strutturale diversità di tale strumento investigativo rispetto a quello normato dal Codice Diritto è peraltro indispensabile selezionare i fornitori di servizi di intercettazione in base alle garanzie di sicurezza del trattamento offerte l'esternalizzazione delle diverse operazioni investigative rende infatti assai più permeabile la filiera in cui si snoda l'attività di intercettazione meritevole perciò di una tutela rafforzata come dimostrano anche alcune istruttorie aperte dal Gorante su tale fronte significativa in tal senso la sanzione erogata a un consulente tecnico dell'autorità giudiziaria che aveva illegittimamente conservato un archivio di dati personali di notevoli dimensioni costituito inizialmente per fini di giustizia aveva altresì illegittimamente messo a disposizione di numerosi soggetti compresi alcuni giornalisti atti giudiziari acquisiti nel corso della sua attività solo l'adozione di adeguate misure di sicurezza da parte di ciascun soggetto coinvolto nella fase dell'indagine può contribuire a minimizzare i rischi inevitabilmente connessi alla frammentazione dei centri di responsabilità derivanti dal coinvolgimento di soggetti diversi nella catena delle attività investigative particolare attenzione abbiamo riservato alle garanzie per il trattamento dei dati personali nel contesto lavorativo fra i tanti casi si può ricordare quello di un ente che verificava illecitamente in forma indiscriminata gli accessi del personale alla rete e alle mail utilizzando software operanti con modalità non percepibili dall'utente per quanto concerne il settore del telemarketing nel 2016 le segnalazioni sono state circa 6.000 l'attività ispettiva dell'autorità svolta con l'ausilio della Guardia di Finanza che ringrazio per la consolidata essenziale collaborazione ha messo in luce rilevanti illeciti commessi da primarie società di telefonie milioni di dati trattati in violazione di legge e si è concretizzata in importanti provvedimenti prescrittivi e sanzionatori anche recentemente confermati dal giudice ordinario abbiamo quindi suggerito già nel corso della precedente relazione in questa sede al legislatore modifiche normative per rafforzare le garanzie dei cittadini a contrastare in particolare le condotte elusive della disciplina fondata sul consenso il disegno di legge di riforma di tale disciplina all'esame del senato ha raccolto alcune di queste indicazioni e ove superati gli effetti contraddittori di una norma contenuta nel DDL concorrenza potrebbe condurre verso un governo più efficiente del settore un impegno costante notevole ha comportato l'implementazione della disciplina della trasparenza amministrativa comprensiva tra l'altro dell'accesso civico generalizzato l'assenza di motivazione delle istanze di accesso e la lacunosità dei parametri offerti dalla legge ai fini della valutazione delle richieste ha reso evidente il rischio di un'applicazione della nuova disciplina oscillante tra un'eccessiva rigidità interpretativa e all'opposto una dilatazione ingiustificata della nozione di trasparenza a rischi del genere tentano di ovviare le indicazioni fornite con le linee guida dell'ANAC adottate pur in un testo sicuramente perfettibile con la nostra intesa e suscettibili di revisione dopo un anno di applicazione un elemento di garanzia del sistema è rappresentato dal parere del garante sul ricorso o il riesame avverso il diniego o il differimento dell'accesso per ragioni di tutela della riservatezza le numerose richieste di parere qui per legge dobbiamo rispondere entro dieci giorni sta comportando per il personale del garante un impegno ai limiti della sostenibilità il diritto all'ublio continua a essere un terreno di confronto importante nel rapporto tra protezione dei dati e informazione promosso dalle istanze che i cittadini ci rivolgono con sempre maggiore frequenza e consapevolezza in quest'ambito ci è stato possibile tracciare alcuni criteri importanti per coniugare la memoria collettiva e la dignità della persona cito in particolare un chiarimento anche con riferimento a una rilevante distanza temporale che non può di per sé sola legittimare la dendicizzazione di notizie inerenti reatti particolarmente efferati come nel caso del terrorismo interno che hanno segnato la storia del paese è uno dei casi non certamente l'unico in cui diciamo l'esperienza di trattamento del problema dell'ublio genera continuamente una approssimazione positiva nel bilanciamento fare diritto alla memoria collettiva e quello alla difesa della dignità personale costante è stata l'attenzione al rapporto tra libertà di espressione e protezione dei dati personali nel contesto dei social network anche rispetto alle varie forme di sfruttamento persino commerciale dei dati sulla vita privata di utenti lì contenuti in diverse occasioni ci siamo attivati per bloccare la diffusione dei dati come nel caso recente delle donne di Monza e Lecco i cui profili Facebook sono stati riversati a loro insaputa in un catalogo delle single esibite come prodotti in vetrina abbiamo poi chiarito come l'anonimato da accordarsi ai minori coinvolti a qualsiasi titolo in procedimenti giudiziari vada garantito a prescindere dalla natura aperta o meno del profilo è un principio suscettibile di applicazione anche al di là del caso esaminato per la difficoltà di cercoscrivere sui social network i potenziali destinatari delle comunicazioni in ragione dell'agevole modificabilità della natura aperta o chiusa dei profili e della possibilità per qualunque amico di condividere sulla propria pagina il posto rendendolo così visibile ad altri soggetti potenzialmente infiniti e dai rischi insiti nella naturale tendenza alla diffusività e alla propagazione in reti di notizie lesive della dignità dei minori muove la legge la nuova legge sul cyberbullismo particolarmente positiva è la scelta di coniugare un approccio preventivo e riparatorio grazie alla promozione dell'educazione digitale e alla specifica procedura di rimozione dei contenuti lesivi presenti in rete il meccanismo delineato evita una preventiva e generalizzata ingerenza da parte dei provider e tuttavia li responsabilizza su segnalazione degli interessati anche se minori l'autorità si impegna a svolgere l'importante funzione di garanzia assegnatale dalla legge nella consapevolezza sia delle oggettive difficoltà tecniche sia della necessità di risorse adeguate ai nuovi compiti per altro verso secondo recenti ricerche la pedopornografia in rete e particolarmente nel dark web sarebbe in crescita vertiginosa nel 2016 2 milioni le immagini censite quasi il doppio rispetto all'anno precedente fonte privilegiata sarebbero le immagini di minori postate sui social network da genitori inconsapevoli delle possibili conseguenze e tra i rischi di un uso distorto del web e di una certa tendenza all'autismo informativo per cui si tende a ricercare in una spirale autoconfermativa le notizie che rafforzano le nostre convinzioni vi è anche quello delle fake news definizione attribuita cose molto diverse tra loro falsità tweet automatizzati et speech veri attacchi cibernetici e altro accomunate dalla tendenza a far dipendere l'attendibilità delle notizie non dalla sua verificabilità ma dalla quantità di condivisioni ottenute diversi social network stanno sviluppato hanno sviluppato strumenti per aiutare gli utenti a verificare le informazioni presenti sulla loro piattaforma e contrastare le bufale virali e diverse soluzioni sono state proposte anche in sede politica penso che non siano risolutive né la via esclusivamente tecnologica che automatizzando il riscontro fattuale deprimerebbe ulteriormente il senso critico né quella penale che finirebbe con l'assegnare alla magistratura il ruolo di tribunale della verità laddove in democrazia l'esattezza non è conseguibile altrimenti che con il pluralismo dialettico ferme restando le norme anche penali a tutela della dignità che delimitano il confine oltre il quale la libertà di espressione non può spingersi ma è illusorio pensare che possono esistere nuove autorità o da organi certificatori della verità il fenomeno delle fake news e l'uso distorto del web che ne è alla base vanno contrastati con una strategia complessa e articolata ma non per questo meno energica a partire da un forte impegno pubblico e privato nell'educazione civica alla società digitale e al pensiero critico dalla sistematica verifica delle fonti e da una forte assunzione di responsabilità da parte di ciascuno degli attori dal singolo utente alle redazioni e certo ai grandi gestori della rete con le loro tecnologie e le grandi risorse perché la democraticità dell'infosfera è una risorsa che tutti dobbiamo preservare ci troviamo in un contesto di grande cambiamento sul versante normativo che incide in modo significativo sul funzionamento sui compiti dell'autorità oltre alle impegnative attribuzioni conseguenti al nuovo quadro giuridico europeo in particolare rispetto a data breach estesi a tutti gli operatori valutazioni di impatto sistemi di certificazione e codici di condotta europei obbligatorietà di parere sulle norme primarie al Parlamento ma anche a normativa nazionali e di settore come in materia di accesso civico che ho richiamato cyberbullismo banca dati del DNA identità digitale il garante deve infatti continuare esercitare anche le proprie funzioni tradizionali la nostra missione principale è ora quella di preparare la transizione accompagnando da un lato organismi pubblici e imprese a conformarsi alle nuove regole in un quadro di certezza del diritto e dall'altra le persone a diventare consapevoli delle garanzie rafforzate e dei nuovi diritti riconosciuti dal regolamento di fronte alla complessità delle questioni con cui tutti i giorni ci misuriamo e alle sfide sempre nuove nei numerosi settori che dobbiamo presidiare avvertiamo forte e urgente la necessità di potenziare l'autorità adeguandola ai nuovi compiti con un significativo incremento del personale analogamente a quanto stanno facendo con successo i maggiori paesi europei lo prevedono espressamente le stesse disposizioni del regolamento e della direttiva e lo ha raccomandato all'Italia il Consiglio dell'Unione per consentire all'autorità l'effettivo esercizio dei propri poteri di controllo sulle banche dati funzionali e gli accordi di Schengen chiediamo al governo e al Parlamento di condividere tale imprescindibile necessità e sostenere il nostro impegno in questa direzione prima di tutto per difendere i diritti dei cittadini ma anche perché sarebbe incomprensibile non investire nella protezione dei dati per un paese che voglia competere nell'economia fondata sui dati per concludere ringrazio il segretario generale tutti coloro che nell'ufficio ogni giorno lavorano con generosità e competenza per mantenere alto il prestigio e l'efficienza della nostra autorità e naturalmente desidero ringraziare le colleghe Augusta Iannini Licia Califano e Giovanna Bianchi Clerici per la loro amicizia oltre che per il solido rapporto di fiducia e collaborazione grazie a tutti grazie a tutti grazie a tutti grazie a tutti